Bocchetti, un buon punto direi più che buono in casa del Monza, alla vigilia in tanti avrebbero firmato credo per questo risultato però alla fine c'è anche un po' di rammarico perché Pescara avrebbe potuto anche portare a casa l'intera posta ha rischiato di perdere ma avrebbe potuto anche vincere Abbiamo rischiato di perdere forse sul secondo calcio d'angolo Azione di Armellino Tiri importo onestamente, sono stati veramente pochi da parte del Monza tranne la grande qualità che ha questa squadra soprattutto sui calci piazzati, fisicamente sono giocatori importanti quindi ci hanno messo in difficoltà soprattutto su questo Poi per quanto riguarda invece noi abbiamo fatto una partita gagliarda, una partita tosta Un ottimo Pescara con il Pisa, un più che buono Pescara con il Monza Ora ci sarà questa gara con il Brescia però con i pareggi Bocchetti non si fa molta strada Oggi Lascoli ha vinto e ha fatto un bel passo in avanti Pescara per cercare di accorciare sulle squadre che sono avanti deve cercare di vincere Noi abbiamo creato tanto, è normale che c'è il rammarico di non aver vinto questa partita sapevamo comunque, affrontavamo una formazione di tutto rispetto, una formazione importante una formazione che è stata creata e formata per vincere il campionato Ci sono dei giocatori che hanno vinto tanto nel corso della carriera però Oggi abbiamo veramente fatto qualcosa di ottimo Non è bastato, purtroppo non è bastato ma le palle e golle abbiamo avute Siamo stati un po' sfortunati sotto porta e questo c'è un rammarico Oggi abbiamo visto soprattutto buone, ottime cose da Sorensen e anche da Scognamiglio Soprattutto Sorensen che all'inizio nelle sue prime partite con il Pescara non aveva molto convinto Oggi il giocatore danese dà sicuramente altre garanzie È arrivato dopo un periodo di inattività, non giocava da un paio di mesi quindi è normale che aveva bisogno di minuti nelle gambe Però diciamo che è tutta la squadra che sta migliorando in fase difensiva e quindi di conseguenza i difensori vengono avvantaggiati Una partita quella di oggi che comunque regala fiducia al Pescara in vista della gara di sabato Tra l'altro la società ha deciso di far restare la squadra qui in Lombardia fino proprio alla gara del Rigamonti per avere ancora maggiore concentrazione A proposito, prima ne parlavamo anche con Andrea Costantini da studio ci sono diversi infortunati, le condizioni di Galano c'è la possibilità che possa recuperare per la gara di sabato? Dobbiamo valutarlo in questi giorni è normale che viene, penso che abbia avuto una distorsione alla capiglia in conseguenza un fallo ricevuto vediamo domani come si sveglia il ragazzo però speriamo di recuperarlo C'è una domanda credo dallo studio da Andrea Costantini Andrea, sì Allora chiede Andrea Costantini che ovviamente saluta Antonio Bocchetti Cosa è cambiato dopo la sosta? Perché Pescara dopo la sosta ha giocato due ottime partite con Pisa e Monza Il lavoro di Grassadonia o qualcosa è scattato nella mente? È scattato qualcosa nella mente dei giocatori? O il lavoro, maggiori giorni di lavoro per Grassadonia proprio perché c'era stata la sosta? Da quando è arrivato il miss Grassadonia abbiamo avuto pochi momenti per lavorare bene c'è stato solo una settimana piena questi abbiamo approfittato per lavorare il più possibile per cercare comunque di conoscere altri tipi di moduli perché abbiamo preparato sempre le partite su un 3-5-2 è normale solo il tempo che a noi non c'è stato quindi che non c'è per preparare un altro modo l'abbiamo preparato, penso bene e si vedono i frutti ma diciamo che comunque la squadra è cresciuta in autostima soprattutto dopo la bruttissima partita che abbiamo fatto a Vicenza era inammissibile preparare partite così e giocare partite così A proposito di modulo, Pescara con il 4-3-3 ha fatto 4 punti in due partite ora è tornato a disposizione Gut si continuerà a lavorare su questo modulo o c'è la possibilità per sabato di tornare al 3-5-2? Sono domande ovviamente che bisognerebbe fare a Grassadonia chiedo all'ex giocatore Bocchetti La domanda che chiede il mister ogni modulo è bello quando si vince è normale che noi abbiamo fatto una partita stupenda penso a Pordenone, forse una delle più belle abbiamo raccolto un solo punto abbiamo giocato 4-3-3 con l'Ascola e abbiamo perso quindi è lo stesso modo che abbiamo fatto 4 punti in due partite adesso non cambia il modulo cambia soprattutto il ragionamento dei ragazzi è quello di crederci è quello di fare qualcosa in più perché in questo momento qua abbiamo bisogno di fare qualcosa in più per riuscire ad eliminare il gap che c'è con le altre squadre Giusto crederci, 18 punti a disposizione 6 partite, al di là di quello che sarà il risultato del Mapei Stadium di Reggio Emilia dove si sta giocando in questi minuti a Brescia però probabilmente il pareggio potrebbe servire a poco anche al di là di quelli che saranno gli altri risultati occorre un po' accelerare Noi sì, dobbiamo accelerare è normale che affrontiamo delle pareggi ci sono anche gli avversari gli avversari sono avversari forti e quindi noi dobbiamo fare di tutto per riuscire a portare la posta in palio di 3 punti a casa noi ci dobbiamo provare, ci dobbiamo credere e dobbiamo fare qualcosa in più per raggiungere questo obiettivo Non so Andrea se c'è qualche altra domanda dello studio altrimenti vado io con l'ultima qui da Monza Perfetto, allora prima parlavamo Bocchetti di Galano bisognerà valutare domani quali sono le condizioni degli altri assenti c'è la possibilità di poter recuperare qualcuno per la gara del Rigamonti? Speriamo di recuperare da Banelli e Rigoni forse pure Basit penso che questi tre possono far parte del gruppo della partita col Brescia